Bene, bene, andiamo avanti. Mi giuro, ancora mancano un po' di premi ma saremo meritoci. Ora siamo al Miglior Film, premio per la giuria. Eccolo. Eccoci qua. Eccoci. Non fare poi anche le bordo. Niente, proprio stasera è un'emozione continua. Ma vieni, vieni, vicinati a Marco, vieni, vieni. Vieni qua vicino, vieni. Intanto dovevano esserci anche... Il doppiaggio è un'arte collettiva. Sono felice che questo sia un premio per il Miglior Doppiaggio perché dà un riconoscimento a tutte le persone che hanno lavorato in questo film e che hanno dato veramente il cuore e l'anima perché hanno amato il film e perché amano il loro lavoro più di quanto a volte sembri essere riconosciuto loro. Voglio ringraziare Sandro Galluzzo che doveva essere qui ma un'influenza ha bloccato e invece voglio ringraziare anche Danilo Moroni che ha fatto un meraviglioso lavoro di missaggio per questo film che era necessario. E tutti gli altri attori, c'era anche Enrico Di Troia qua. C'era... Eh, vieni, vieni. Massimo Rossi Massimo non è venuto. Ma non è il merito da venire, sì, è venuto. Comunque, insomma, grazie davvero di cuore da parte di tutti. Grazie. Anche Stella Musi volevo ringraziare, volevo ringraziare anche la Film Mauro perché ha fatto un'operazione coraggiosa. Il film era in farsi, in originale era tutto completamente sottotitolato. Hanno fatto un'operazione coraggiosa perché comunque hanno voluto doppiare tutto il film e i risultati penso che gli abbiano dato ragione. Grazie ancora a tutti. Grazie a te, ma grazie a te del lavoro che hai fatto. L'ha fatto, si è visto il film. Un applauso a Marco Lecce, a Gianfranco Miranda e a Enrico Di Troia. Grazie a te.